Come granello di senape, un uomo ha piantato, un giorno crescerà e ti verrà albero magnifico nel roccolo del mio Signore. Come granello di senape, il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà albero benefico nel forno del mio Signore. Se lo ha dato Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, ascoltiamo il brano dell'Evangelo di Marco nella terza domenica del tempo ordinario. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatore dei uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Cari fratelli e care sorelle, questo brano del Vangelo di Marco ci presenta l'inizio della vita pubblica di Gesù. Dopo averci descritto il battesimo che Gesù aveva ricevuto da Giovanni Battista presso il fiume Giordano, adesso vediamo che Gesù si sposta e va propriamente al nord della Palestina, nella regione della Galilea, che diventa così la culla del Vangelo. E Marco sintetizza quanto Gesù diceva nella sua predicazione. Mi sembra abbastanza interessante conoscere quale fosse il contenuto della predicazione di Gesù durante la sua vita pubblica. Ce la descrive in quattro brevissimi versetti. C'è la rivelazione innanzitutto da parte di Dio nei primi due versetti e poi seguono altri due versetti che costituiscono la decisione da parte dell'uomo e quindi l'impegno, la risposta che dobbiamo dare noi. Innanzitutto, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ecco, ciò che discende, ciò che Dio rivela a ciascuno di noi. Gesù annunzia che questo è il kairos, il tempo di Dio, è la circostanza favorevole, il momento cioè della grazia, l'opportunità che Dio dà a me, a te, a ciascuno di noi. E quindi questo regno di Dio che si fa vicino, la presenza di Dio. Adesso, oggi, qui, Dio si fa incontrare. A questa rivelazione di Dio segue la risposta, segue la decisione da parte nostra. Convertitevi, dice Gesù, e credete al Vangelo. Convertirsi significa un richiamo a un mutamento radicale di quella che è la nostra vita, la nostra condotta. Prendere sul serio le parole di Gesù. E bisogna credere al Vangelo. Che, fratelli, l'oggetto della fede è una persona, è Dio, è Gesù stesso. E dobbiamo essere quindi credenti nel Vangelo. Prendiamo sul serio questa notizia. Quante notizie noi ascoltiamo durante le nostre giornate, durante la nostra vita. Ma c'è una notizia che ci dovrebbe veramente sconvolgere. Lasciamoci sconvolgere dalla notizia. È il Vangelo di Gesù. Gesù, che cammina per le strade della mia esistenza, mi viene incontro e mi invita a prendere coscienza di questa sua reale presenza. Il momento decisivo diventa allora quello in cui io decido se la cosa veramente mi interessa oppure no. E c'è poi la seconda parte, brevissima, di questo Vangelo, dove troviamo la chiamata dei primi quattro discepoli. Troviamo questo Dio che ha tanta voglia di condividere con noi il bene. Infatti non esiste gioia più grande di fare il bene. E Gesù chiama quindi alcuni pescatori, due coppie di fratelli, Andrea e Simon Pietro da una parte, e poi Giacomo e Giovanni, gli altri due fratelli, per la sequela. Chiama alcuni pescatori della Galilea perché stiano con lui, perché credano nella sua persona, perché poi ne portino anche l'annuncio. Vedete anche qui come Gesù ci vuole coinvolgere, come Gesù ci vuole rendere responsabili di questo annuncio, per farci gustare la gioia del bene. Dio chiama per dare. Non pensiamo che Dio pretenda quasi in una maniera egoistica per sé. Dio è altruista. Dio vuole rendere partecipi noi della sua gioia, della sua pienezza e della sua grazia. E Gesù qui vediamo che sceglie alcuni pescatori. Come in altri momenti vedremo che chiamerà l'esattore Levi, chiederà ad ognuno di lasciare tutto. Perché? Perché soltanto chi è povero e che si fa povero ha un cuore capace e pronto per accogliere Dio, per arricchirci nella nostra esistenza. Non ci può essere posto in un cuore certamente arrogante. È un esame di coscienza che siamo chiamati, siamo invitati a fare. Ma notiamo anche un altro particolare. Dove comincia Gesù la sua predicazione? Al nord della Palestina, propriamente nella Galilea, dicevo, la culla del Vangelo. Non la Giudea, neppure Gerusalemme con centro religioso, un centro culturale, un centro ricco, da un punto di vista anche commerciale. Gesù comincia dalla parte settentrionale della Palestina. Separata anche politicamente dalla Giudea, a partire dalla morte del re Erode, il grande, nelle quattro avanti Cristo. Questa regione risente certamente dell'influsso ellenistico, perché vi abitavano sia ebrei sia pagani. Insieme abitavano. Anche l'appuntamento con il risorto, ci ricorderemo quanto Gesù appare da risorto agli Apostoli, le invita ad andare in Galilea. Là mi vedrete. E dalla Galilea poi comincia il mandato per i cristiani, per gli Apostoli. Andate in tutto il mondo e battezzate il Vangelo. Troviamo qui uno schema della chiamata tipo. Ci sono le componenti della chiamata, ci sono le componenti della risposta. C'è lo sguardo intanto, è l'iniziativa, è l'urgenza da parte di Gesù. E segue la risposta nelle sue componenti, con la fede, con il distacco, con la sequela e il lasciarsi fare. Io penso che ognuno di noi è invitato a riflettere, a confrontarsi con questo elemento della chiamata, lo sguardo, l'iniziativa e l'urgenza di Gesù alla sua sequela, perché è la componente di ogni vocazione cristiana, la vita cristiana intanto, e poi alle singole vocazioni specifiche, è quelle componenti che richiedono la nostra risposta. Concludendo, vorrei che ci convincessimo di una cosa, sia nel momento, dicevamo poc'anzi, dell'oggetto della predicazione di Gesù, sia negli elementi di questa chiamata, abbiamo una consapevolezza. Dio mi cerca, mi chiama nella mia quotidianità. qui richiamo ancora una volta Papa Francesco, come ci invita a imitare questo Gesù, che va non nei luoghi sacri, ma per le strade, per le periferie, per le strade polverose della Palestina, per essere anche noi quindi una chiesa in periferia, una chiesa in strada. Non manca per i fratelli la chiamata, convinciamoci, manca forse la risposta. Dio ci ha dato il tempo per farne una eternità. Viviamo con maggiore consapevolezza, prendiamo coscienza di noi e della propria storia, diamo importanza al momento della grazia, impariamo come il tempo è qualcosa di prezioso e questo tempo va vissuto alla luce di Cristo. Si è lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor come un chicco di frumento qualcuno seminato al sole crescerà e ti verrà germoglio munifico nella terra del mio Signor. febbra d'amore e fuori di me parla la tua voce e vedo solo te manda con coraggio nel mondo le ancelle della mia misericordia nel mondo senza essere del mondo gran allo vivo e vero dell'amore e vedo solo te